Le dimensioni degli stagli a pagamento a Terramo sono regolari. La relazione tecnica fornita dalla EasyHelp, società che gestisce le strisce blu, consente all'amministrazione comunale di rispondere alle polemiche sollevate dal consigliere di opposizione Franco Fracassa e chiarire il rispetto della normativa. A far fede riguardo le misure dei parcheggi è il decreto ministeriale del 5 novembre 2001. Per gli stagli a nastro, quelli paralleli al senso di marcia, la larghezza è di due metri. Quelli a pettine e quelli a spina invece devono essere larghi due metri e trenta. Le misure dei parcheggi Terramani vanno dai due metri di Corso dei Michetti ai due metri e mezzo di Largo Madonna delle Grazie, Viale Madre Teresa di Calcutta, Largo Anfiteatro e Viale Crispi. Oggi finalmente con i nuovi soggetti gestori finalmente possiamo avviare una politica di strategia della sosta come non è mai stato fatto e quindi è su questo che dovremmo confrontarci non su comunicazioni completamente false perché di questo si tratta da parte consigliere fracassa. È il momento di elevare la comunicazione anche da parte di tutti quei soggetti che fanno politica perché i cittadini meritano di più. L'unica area finora rimasta alle vecchie misure precedenti, la gestione della Easy Help, è Piazza Verdi dove è stata attesa la fine dei lavori della rete del gas. Domani, come da segnaletica apposta, saranno disegnati i nuovi stalli. È l'unico luogo dove non è intervenuta la Easy Help, quindi fotografa la situazione dell'amministrazione fracassa. Cioè gli stalli di Piazza Verdi sono a dimensione fracassa e non si capisce perché il consigliere fracassa non misurava quando lui amministrava, quando la situazione era realmente illegittima a livello di dimensione degli stalli. Novità in vista anche per Campo Boario. A giorni saranno realizzati i primi 40 parcheggi a pagamento del centinaio previsto nell'ex mercato ortofrutticolo. La sosta costerà 40 centesimi l'ora con abbonamento mensile a 15 euro. Le aree di parcheggio libere attualmente disponibili, usate soprattutto dai dipendenti dell'istituto zooprofilattico e dai residenti, resteranno gratuite.